buongiorno oggi continuiamo con i nostri video tutorial dedicati a gcat 2024 e vedremo oggi come gestire l'importazione delle immagini allora abbiamo due modi in particolar modo per poter importare un'immagine e il primo è andare sul menu inserisci e possiamo appunto andare a utilizzare la funzione allega la funzione allega mi permette di caricare tutti quelli che sono i vari formati di immagine map gif jpeg tif.ico png i principali insomma quindi io posso andare a selezionarmi l'immagine seleziona faccio ok e poi mi chiede di inserire direttamente nell'area di progetto di lavoro se io voglio andare a fare a modificare regola l'immagine io basta selezionare l'immagine e qui posso apportare quelle che sono le varie funzioni di luminosità colori in verticolore eccetera eccetera quindi posso fare una serie di operazioni se invece io voglio andare a gestire come riferimento esterno allora a questo punto possiamo andare procedere all'interno della menu vista e qui troviamo appunto riferimenti esterni riferimento esterno mi dà la possibilità di collegare anche l'immagine vedete questo qui già quella lì che avevo collegato quindi collega immagine mi vado a selezionare in questo caso però con riferimento esterno non mi limito solo all'inserimento delle immagini ma anche altri formati come tvg di xf e così via altri formati vado a selezionare immagine vado a selezionarmi la mia immagine ok e quindi qui mi chiede di inserire l'elemento quindi innanzitutto seleziono tutti i parametri su schermo clicco su ok e la prima cosa punto di inserimento mi chiede di inserire il mio punto di inserimento fattore di scala lasciamo uno di default scala y1 rotazione 0 a questo punto ho inserito correttamente anche quello che è il mio elemento d'immagine se voglio andare a portare delle definizioni immagini io posso vedete qui ho tutte le mie immagini collegate con un percorso di riferimento da dove andare a prendere l'immagine posso fare operazioni di modifica sull'immagine come prima e quindi avere una gestione completa oppure includere anche l'immagine all'interno del mio progetto in questo modo vado a salvare l'immagine all'interno del file di progetto tfg